Buongiorno a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi vi faccio vedere la scheda numero 5 del libro dei lavoretti creativi di Natale che trovate in vendita su Amazon scrivendo Irene Marzi Natale nella lentina di ricerca. Prima di farvi vedere la scheda vi ricordo che esiste anche la versione dell'anno scorso ovvero quella dell'elfo di Natale. Entrambi i libri contengono 25 schede in bianco e nero diverse ovviamente da colorare ritagliare incollare per fare splendide creazioni artistiche con i bambini. Torniamo alla scheda numero 5. Allora ci permetterà di realizzare questo omino di pan di zenzero e di fare un gioco diciamo di una volta super super divertente. Allora per prima cosa la scheda va colorata poi va ritagliata e vi consiglio di attaccare l'omino a un pezzetto di cartone perché così lo potete rendere più resistente quindi vi dura di più. Poi vanno tagliati i vestiti adesso vediamo anche quello. Allora prima di ritagliarli potete divertirvi a decorarli come volete e poi potete anche divertirvi a creare da soli le vostre magliette utilizzando queste come come sagome quindi le mettete su un foglio di carta e le ripassate con la matita le colorate e poi le ritagliate oppure potete anche aggiungere dei particolari ad esempio potete fare un omina scusate gioco di parole di pan di zenzero e creare ad esempio la gonna quindi aggiungere qui la gonna oppure aggiungere i pantaloni quindi potete fare un po' quello che che volete. Allora nel frattempo io sto ritagliando il mio simpaticissimo omino e la scheda quindi permette di realizzare questo gioco con cui si possono si possono vestire questi omini di pan di zenzero. Potete anche crearne più di uno appoggiate la sagoma sul foglio e poi rifate con la matita la sagoma ritagliate e il gioco è fatto. Vi ricordo quindi che il libro contiene 25 schede in bianco e nero da colorare ritagliare incollare e si possono fare tantissime cose si possono fare delle decorazioni oppure quello che viene chiamato insomma diciamo il lavoretto dei giochi fai da te c'è un po' di tutto e come vi dicevo queste schede sono diverse rispetto a quelle del del libro verde e se vi piace l'idea vi ricordo che esistono anche la versione primavera e pasqua primavera e basta halloween 1 e 2 estate insomma è autunno anche che è andato molto molto bene vedo che è piaciuto tantissimo. Il prossimo ve lo svelerò a breve perché ci sto lavorando ma in realtà a dirvela tutta sto lavorando a un albo illustrato quindi devo prima finire quello e dopo mi concentrerò sulla preparazione di un altro libro dei lavoretti creativi che penso così spoileriamo sarà relativo al carnevale però non lo so ancora quindi non ve lo do per certo so che prima o poi uscirà il libro del carnevale ma non so se riuscirò a farlo quest'anno oppure l'anno prossimo perché può non sembrare ma in realtà tra l'ideazione delle schede la realizzazione la preparazione le istruzioni e tutto è veramente insomma impegnativo preparare questi questi libri però lo faccio volentieri perché vedo che piacciono molto ho un ottimo riscontro tanti che mi scrivono tanti bambini che mi mandano le fotografie di quello che fanno quindi sono molto 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 contenta andiamo avanti quindi con la scheda numero 5 ve lo faccio di rivedere del libro dei lavoretti creativi di natale cosa si fa non ci resta che vestire il nostro omino di pan di zenzero prendo le magliette che ho ritagliato piego le alette all'indietro e vado a posizionarle sul mio omino quindi in questo caso lo vestirò così adesso vediamo come sta invece con la t shirt gialla ecco qua vedete come cambia e potete divertirvi a preparare tutti i vestiti che volete quindi questa è un'idea poi voi potete sbizzarrirvi e creare tanti tanti altri vestiti ecco qua e così invece ecco l'altra maglietta e niente se l'idea vi piace vi ricordo di lasciare un bel like al video di condividerlo così da aiutarmi a far trovare i miei libri a tanti genitori a tanti insegnanti in cerca di idee per oggi è tutto vi saluto vi ringrazio vi faccio rivedere un'ultima volta le copertine dei due libri elfo di natale copertina verde natale basta copertina rossa vi trovate tutti su amazon scrivendo irene marzi natale nella lentina di ricerca ciao a tutti ciao